Ciao, sono Paolo Negrini, faccio parte di Confiduzia Atletica Rovigo e questi sono i nostri atleti e a tempo perso super collaboratori. Sono due anni, personalmente, ma anche attraverso tutto lo staff della Corri per Rovigo, che ci siamo attivati per questa bellissima manifestazione, secondo me. L'aspetto che mi piace di più della manifestazione è che coinvolge tutti, è trasversale, chiunque, chi cammina, chi corre, chi viene anche a chiacchierare, insomma, è bello anche per quello. Che mi spinge a venire giù da Padova per essere sempre presente qua il giovedì, sicuramente è l'iniziativa per sé, sono loro, i ragazzi, che comunque sono sempre in prima linea, quindi penso sia doveroso da parte mia, visto che sono anche il loro allenatore, a rispondere sempre in prima linea e questa è una delle prime motivazioni. E poi la passione per quello che facciamo, perché siamo sempre qua perché ci divertiamo e questa, secondo me, è la cosa più importante, divertirsi. Non preparo personalmente persone che vengono qua a correre al Corri per Rovigo, se non ragazzini che ho visto sbucare fuori all'insaputa di noi allenatori che si fanno i 5-10 km, con piacere, insomma, con i genitori. Il Corri per Rovigo è una branchia dell'atletica leggera. Quando vengo giù a dare una mano al Corri per Rovigo, di solito sbandiero, vettorina, bandierina arancione, quando è sera a luce, ci diamo una mano agli incroci soprattutto. Come tutti i ragazzi dello staff che vengono a darci una mano, chi è per le iscrizioni prima, chi sul percorso poi o entrambi, ci diamo comunque sempre una mano sulla strada. Per me la Corri per Rovigo è il significato di tutto ciò che abbiamo fatto da alcuni anni qua a Rovigo, con un gruppo di amici che ha preso piede e i numeri stanno dando ragione. anno per anno sta aumentando. Penso che sia comunque il coronamento anche di un'attività che ci ha portato a sviluppare l'atletica leggera a Rovigo, prima in pista e poi sulla strada.